Luca Clerici, delegato del Rettore per le attività culturali, volevamo chiedergli dell'altra mostra, sempre su Guido Crepax, che partirà dopo questa, il 9 novembre, in Università Statale. Perché una mostra di Crepax, sempre relativa a tempo medico, all'Università Statale? Le risposte sono diverse, anzitutto per la qualità e l'importanza dell'autore Crepax, universalmente noto, ma il fatto che entri in Statale, cioè in Università, secondo me, ha un valore aggiunto. La Statale è governata dal Rettore Luca Vago, che è un medico e che quindi ha frequentazioni, ha avuto frequentazioni con tempo medico e con questo argomento. Ma in realtà questo è solo un pretesto. Più in generale, l'Università sta attuando dal mandato di Vago un'operazione di integrazione col territorio anche di tipo culturale. Per cui, integriamo, proponendo alla cittadinanza e a tutti, iniziative di largo respiro, che nascono naturalmente dalla ricerca e dal fondamento di Unimi, e accogliamo allo stesso modo iniziative interessanti. In questa dialettica ci sembrava bello ospitare una mostra su Crepax. Verrà, peraltro, ospitata nel loggiato del Rettorato, che è una sede particolarmente prestigiosa, di qualità, si affaccia sul secentesco cortile del Richini e credo che sia appunto un riconoscimento interessante, antico e moderno dialogano in modo proficuo con un'apertura alle nuove arti e un'idea di letteratura e comunicazione letteraria allargata. Il fumetto ormai è, diciamo, pieno titolo, degno di essere ospitato in Statale in un luogo particolarmente suggestivo. Bene, grazie. Grazie.